Il Soroptimist Club di Soverato si ritrova per ragionare sulla giornata del ricordo il 10 febbraio 2024 insieme alla Presidente Vittoria Mandari e insieme a tanti tanti ragazzi che sono poi destinatari di ogni prospettiva per il futuro. Sì, certamente, perché questa è una giornata in cui dobbiamo riflettere su quello che è successo nel passato per non commettere gli errori nel presente e nel futuro. Mai come in questo momento è necessario parlare di pace, ma costruire la pace significa anche ricordare quello che in passato è stato fatto, gli errori commessi e quindi andare avanti sulla base di quello che noi riusciamo a ricordare, a studiare, ecco perché la storia è importante per noi, perché da lì noi partiamo dal passato per migliorare il presente e il nostro futuro. Le foibe, momento tristissimo di grande violenza e sopraffazione, però di questi momenti ce ne sono talmente tanti che uno pensa forse quella è la normalità. E noi non vogliamo che sia questo, sicuramente come lei dice ce ne sono tanti e mai come in questo momento ci ritroviamo a fare praticamente delle situazioni così particolari, pensiamo a quello che succede in Medio Oriente, pensiamo a quello che succede in tutte le parti del mondo, penso all'Africa, cioè noi dobbiamo essere un monito per le giovani generazioni perché è fondamentale la conoscenza del passato per migliorare il presente. Quindi cosa risponde il Soroptimist a chi diceva si vis pacem parabellum? Beh, per parafrasare i latini, anche loro sono stati importanti per la nostra storia, però non penso che la pace si possa costruire sulla guerra, assolutamente. Penso che la pace si possa costruire con il dialogo, con la condivisione e con la conoscenza perché se noi conosciamo possiamo agire in maniera corretta. E allora possiamo concludere dicendo pace, costruzione, volontà, donne e si finisce poi Soroptimist. Grazie, sì. Noi come club al femminile, come club service proponiamo sempre momenti di condivisione, di pace e di costruzione di un futuro migliore. Speriamo. E quando si parla di qualcosa di importante, l'Istituto Giovanni Malafarina non si tira indietro il dirigente scolastico che noi amiamo chiamare Presidente, Saverio Candelieri, le foibe. Nel suo messaggio lei ha parlato di responsabilità della memoria. Assolutamente sì. La giornata del ricordo, il 10 febbraio, istituita con la legge 92 del 2004, quindi 20 anni fa, ci richiama quello che è il compito urgente di non dimenticare, anzi, di acquisire sempre più la responsabilità della memoria. Quelle stragi che sono avvenute, conosciute come la strage delle foibe, sono ancora davanti ai nostri occhi. Non possono non interpellarci, non possono non ammonirci. E come scuola abbiamo la grande responsabilità di far conoscere ai nostri studenti le atrocità del passato affinché ciò non venga mai più riproposto. Mi piace ricordare quanto ieri il Presidente Mattarella ha detto nel suo messaggio per l'occasione. Parlava Mattarella dicendo che i giovani devono sapere, i giovani devono sempre più conoscere quelle che sono state queste atrocità del passato. E nei luoghi laddove si sono consumate queste tragedie, oggi noi costruiamo attraverso rapporti di amicizia, di solidarietà con la Croazia, con la Slovenia, il sogno di un'Europa unita. Ecco, noi non dobbiamo assolutamente consentire che ciò che il totalitarismo ideologico ha commesso in passato possa assolutamente riproporsi. Allora, a quella che è stata la grandezza del male che è stato compiuto, noi dobbiamo oggi educare le giovani generazioni attraverso l'impegno di tutti quanti delle agenzie educative in primis a rispondere con la fortezza del bene. Gli studenti, i giovani riescono a recepire questi messaggi. Vanno aiutati, confidiamo in loro perché insieme si possa costruire certamente un'Europa diversa o un mondo diverso laddove ciò che la storia ci ha insegnato non venga mai più a riproporsi. Al termine di questa lezione magistrale, il professor Angelo Lilerio, che è riuscito anche ad appassionare i ragazzi tante le domande, noi gli chiediamo giornata del ricordo, però forse per lungo tempo ce ne siamo scordati. Sì, purtroppo è calato su questa pagina di storia drammatica del Novecento italiano un silenzio delle fonti ufficiali, anche opportunistico perché l'Italia ha scontato il fatto di essere uno Stato che è uscito sconfitto in macerie dalla Seconda Guerra Mondiale con un passato ingombrante come quello del fascismo, della monarchia e poi su questa pagina di storia è calata la guerra fredda e quindi in una logica di blocchi con un vicino ingombrante come la Jugoslavia comunista di Tito bisognava tenere dei rapporti di buon vicinato e non tornare su questa pagina di storia perché avrebbe causato ulteriori fastidi anche a livello internazionale e diplomatico. Poi per fortuna crolla il muno di Berlino finisce l'epoca, o meglio siamo tornati in contraposizione, ma comunque finisce la guerra fredda come l'abbiamo conosciuta, si dissolve la Jugoslavia e quindi lentamente questa pagina di storia riemerge grazie al lavoro infaticabile degli esuli, dei loro nipoti, dei loro figli e poi anche della scuola del Ministero dell'Istituzione del Merito che insieme alla RAI e ad altri soggetti istituzionali ha messo in campo questa iniziativa. Professore, lei oggi ha incarnato un concetto che era espresso dalla frase «Istoria, magistra, vite». Purtroppo questo, che è una citazione di Marco Turio Cicerone, è un auspicio, è un'utopia, è un tendere verso quella meta, quell'obiettivo. L'essere umano, mi viene in mente in questo momento la poesia di Quasimodo, sei sempre l'uomo della fionda e siamo sempre lì, però questo non ci impedisce di farci carico come collettività umana, come collettività italiana di questa storia. E io sono uno strumento, perché i testimoni della Shoah come delle foibe, purtroppo per ragioni anagrafiche finiranno, noi dobbiamo prenderci in mano e caricarsi sulle spalle questa storia e trasmetterla. Un'ultimissima battuta, mi scusi, è Shoah, foibe, lei che è uno storico e uno studioso, potrebbe anticiparci che un domani scopriremo un altro olocausto che oggi è di Serie C? Ha fatto una domanda perfetta, quello su cui non si parla è che è stato riattizzato la questione armena. L'Armenia purtroppo è stata la prima cultura, società etnica ad essere stata perseguitata già prima della Shoah, perché dico ai telespettatori che prima che il Führer Hitler progettasse la soluzione finale per la questione ebraica, aveva avuto contatti con l'impero ottomano che aveva già sterminato gli armeni all'indomani della prima guerra mondiale. Quindi purtroppo ancora c'è tanto da dire.